eccoci buonasera a tutti è con piacere che questa sera abbiamo di nuovo nostro amico eugenio benetazzo per chi non lo sapeva ciao paolo grazie per l'invito buon trading e buon bitcoin a tutti quanti quelli che stanno ascoltando adesso per chi non lo conoscesse eugenio è il CEO e founder di u-chain spa digital asset management è uno dei migliori esperti per quanto riguarda le cripto valute in italia e vi rimanga un minuto alla chiusura della borsa e mi hanno seguito qualcosa di solito andiamo 17 30 in diretta è un piacere per me averti ancora eugenio stasera parleremo dell'argomento di oggi abbiamo visto che l'argomento di oggi sulle cripto cosa succederà le cripto che c'è qualche problemino e quindi vediamo se ci darà il lato di lui sulle cripto che non succeda come nel 2018 che c'è stato un po di problemi sulle cripto chi vorrà fare domande a eugenio mi raccomando inerenti alle cripto valute è un allarme che sta chiudendo la borsa chi vuole fare domande inerenti mi raccomando alle cripto valute verranno accolte veramente con piacere non fatemi domande sulla borsa perché l'argomento di oggi è sulle cripto valute quindi l'argomento è sulle cripto come avete visto dal titolo dobbiamo parlare delle cripto valute oggi ok quindi mi raccomando l'argomento è proprio questo se 2022 è come il 2018 ci dobbiamo aspettare un bear market e quindi ne parliamo insieme eugenio belle tazzo allora prima di tutto c'è stato un ragazzo che mi ha scritto eugenio quindi ti giro una domanda per quanto riguarda keep che mi ha detto k ep che è stata tolta da bainas e se tu sai il motivo perché è stata tolta da bainas e dopo l'altra domanda che volevo farti era quella inerente quindi mi mi rispondi in riga a tutte e due le domande l'altra domanda inerente è quella di buffett che tempo fa aveva definito le cripto valute come veleno per topi volevo sapere da te quindi dice proprio che non aveva nessun valore le cripto valute se non che abbiamo visto che la berkshire hathway che la proprio la società il fondo di investimento che è arrivato a raggiunto dei livelli incredibili di buffette nel suo portafoglio di investimenti appunto appunto a 331 miliardi di dollari che è composto da da parecchie società insomma tra cui la bank of america american express e per ultimo hanno investito anche su quella società che è la nubank che è una banca digitale con sede in brasile e li hanno investito molti soldi quindi è una banca proprio l'america latina che si occupa di fintech e di scambio di cripto valute quindi cosa ne pensi di buffette che gli hanno fatto un po cambiare idee quindi qualcuno ha investito anche sulle cripto di buffette quindi prima keep e dopo quella lì di buffette e dopo vediamo le domande hanno i ragazzi ci dare uno view del mercato delle cripto a te la parola grazie genio certo andiamo per gradi innanzitutto binance noi non ho io e neanche la società operiamo con binance ma utilizziamo altri intermediari per cui non conosco la l'asset keep ma non ho non sono a conoscenza del perché è stata delistata all'interno di binance di certo questo rappresenta uno dei possibili rischi che vengono che vengono a cui si può andare incontro quando si va a posizionare con cripto asset quindi la qualità dell'intermediario le modalità con cui viene fatto il listing quali sono le caratteristiche per la sua continuazione e così via discorrendo mai ad ogni modo andare all in su una due o tre cripto asset ma spalmare l'operatività i capitali di rischio su un basket diversificato di almeno due dozzine di cripto asset con diversi pesi strategici per quanto concerne warren buffett non è una novità negli ultimi sei barra nove mesi abbiamo assistito a numerosi endorsement di ambienti istituzionali nei confronti dei cripto asset questo in considerazione del fatto che numerose blockchain e numerosi crypto project hanno iniziato ad avere la cosiddetta mass adoption e quindi sono entrati nei radar dei fondi di gestione nei radar dei family office nei radar dei gestori di patrimoni e inseriscono pertanto tatticamente questi strumenti finanziari ancora non regolamentati all'interno dei portafogli dei comparti finanziari e così via discorrendo per generare motore di performance per quanto concerne invece il tema principale riguardo a il titolo che abbiamo dato alla live di oggi il 2022 come il 2018 fino a qualche settimana fa ti avrei detto ma non lo so probabilmente non ci sono queste condizioni perché un mercato che ormai si è evoluto è più maturo c'è una presenza di attori istituzionali e corporate di elevato spessore che non avevamo nel 2018 sono presenti strumenti finanziari a replica indiretta e a replica fisica delle principali e principali cripto asset e così via discorrendo era una narrativa veramente molto molto soddisfacente che faceva presupporre un quadro uno scenario per il 2022 tutto sommato roseo ahimè il eventi di guerra in europa orientale e la conclamata ormai correlazione positiva purtroppo con i mercati indici azionari high tech hanno scosso profondamente profondamente i le aspettative sia dei trader dei crypto trader che dei crypto gestori tant'è che proprio nella giornata odierna si sono abbiamo assistito a enunciazioni da parte di grandi interlocutori intermediari dei crypto markets che adesso vocifrano a ritengono plausibile un 2022 all'insegna della modestia ossia un periodo di lateralizzazione o peggio ancora di progressiva discesa senza grandi affondi come avvenne nel 2018 ma l'appuntamento per un nuovo rally l'appuntamento per nuovi massimi storici assoluti stando alle dichiarazioni di questi interlocutori uno tanto per dare un un nome di riferimento il fondatore e il CEO di UoB che è la seconda borsa exchange al mondo situata in Asia per volumi di negoziato quindi dopo Binance fatalità c'è UoB e stando a lui e tanti altri proprio da quello che è emerso nelle ultime giornate in cui appunto abbiamo messo è stato messo in evidenza questa caratteristica poco piacevole ossia l'elevata correlazione con gli indici azionari high tech sapendo che non se la passano bene i titoli growth high tech dovremmo aspettarci questo tipo di scenario che per adesso potrebbe essere potrebbe essere disatteso solo dall'arrivo di notizie di portata devastante sul versante istituzionale vi faccio un esempio pratico una grande banca di portata mondiale che dice da domani noi offriamo servizi di intermediazione sulle principali cryptocurrency oppure un'altra nazione non di certo del calibro di El Salvador che conta meno della provincia di Rovigo al mondo ma che acquisisce prende la bitcoin al pari di tante al pari di del dollaro americano della stallina e così via discorrendo e per non finire quella che si presuppone possa arrivare nel tempo anzi già nelle prossime settimane è la famosa autorizzazione negli stati uniti da parte della sex della sec per una emissione di etf a replica fisica e che significherebbe che negli stati uniti diventa disponibile uno strumento finanziario regolamentato che dà la possibilità a omer simpson e peter griffin di comprare con grande facilità ad esempio bitcoin semplicemente alzando la cornetta o cliccando un pulsante sulla propria piattaforma di home banking proprio perché grazie a quelle tf si potrà avere un esposizione in diretta ma fisica su bitcoin paolo hai hai levato il microfono hai levato il microfono sì scusami scusami eccomi qua scusatemi eh buonasera a tutti intanto l'avevo detto all'inizio eh complimenti ai ragazzi che stanno venendo in diretta stanno facendo diverse domande adesso telegiro eugenio eh allora innanzitutto te dici allora abbiamo visto che c'è questa correlazione che prima non c'era tra gli indici e le e le criptovalute perché io seguo ma vado a vedere la domenica per sapere un attimo come potrebbe apparire anche la borsa mi ricordo una settimana due tre settimane fa che erano le cripto molto giù e dopo la borsa aperto meno due meno due mezzo poi andate a meno tre quindi c'è questo spostamento di liquidità tra gli asset che grow che sono quelli a crescita e sono andati stanno andando su sulle azioni anche value perché abbiamo visto anche il dow jones che sta scendendo leggermente meno quindi abbiamo una ribasso meno marcato rispetto al tecnologico e all's p500 quindi stanno andando sulle azioni che hanno dividendo e sono leggermente più tranquille in questo momento qui anche se stanno perdendo anche loro sul mercato per quanto riguarda le cripto quindi sta seguendo un attimino che prima era staccata questa cosa come te la spieghi te che sta seguendo le cripto sta seguendo un attimino questo andamento dell'indice sia un attimino allineato e non c'è questa dicotomia che c'era prima certo perché la si è iniziato a considerare diffusamente come l'ambiente della criptosfera come un tipico settore economico ad alta ad alto impatto tecnologico e pertanto fondi comparti gestioni hanno iniziato a mettere all'interno dei loro strumenti anche quella componente vale a dire la componente blockchain la componente cryptocurrency la componente defi la componente mining la componente adesso che abbiamo nft la componente metaverso sono tutti elementi di potenziale investimento che tre quattro anni fa non esistevano assolutamente quindi a fronte di questo e soprattutto con la disperata caccia al rendimento che hanno i gestori in questi ultimi due anni si cerca di soprattutto ricorrendo ai fondi flessibili quelli che danno a che consentono di avere delega il mandato di gestione si va anche a posizionarsi su questo tipo di strumenti che oggi hanno un livello di capitalizzazione che è tranquillamente 6-7 volte quello del 2018 quindi non ci sono più solo i capitali dei ragazzini disperati che nel 2018-17 volevano diventare ricchi in due mesi comprando 2000 euro di qualcosa ma oggi abbiamo dei temi di sviluppo e di sviluppo e di evoluzione tutto questo ambiente variegato che corre su più binari e ognuno dei quali ha diversi poi attori di mercato ad esempio solo il mondo del metaverso oggi ha 4-5 titoli abbastanza anche con titoli comunque crypto project molto conosciuti che stanno avendo adozione l'ambiente degli intermediari per l'ambiente degli exchange per il mondo cripto ha ad esempio un oggi ha un titolo del nasdaq quotato che è coinbase non c'era coinbase 3-4 anni fa cioè c'era come intermediario ma non era quotato in borsa al nasdaq la stessa cosa si potrebbe dirla poi anche per tutti quei veicoli societari SPAC che investono direttamente in crypto asset e consentono di poter avere esposizione in diretta sui loro investimenti grazie a la quotazione mi riferisco al caso so di grayscale o micro strategy che sono delle grandi cassaforti che sono delle grandi grandi incubatori finanziarie al cui interno ci sono i crypto asset quindi una banca un fondo un comparto finanziario che non ha il know-how non può farlo anche per ragioni di compliance e tutta una serie di altri problemi cosa fa va a prendersi il titolo quotato regolamentato sul mercato e sa che lì dentro indirettamente è esposta per un percentuale che insomma in bitcoin in ethereum in solana e così via discorrendo un'analisi che ci ha chiesto marco c'è che sono analisi su cardano solana e matic e dopo la solita insomma abbiamo sempre te li faccio anzi ti do ti do in anticipo una una faccio in anticipo una rivelazione un disclosure come si suol dire su cardano ormai chi segue le nostre attività sa che siamo usciti abbondantemente prima ancora alla fine dello scorso anno e abbiamo anche spiegato per quale motivo non ha più a nostro modo di vedere senso investire in cardano nel senso che un cripto progetto che ormai è obsoleto per tutto il suo percorso e le aspettative chiace è nato cinque anni fa o adesso ci sono blockchain che sono notevolmente più performanti più interessanti da questo punto di vista su solana proprio nella giornata odierna dopo i precedenti smobilizzi con le prese di beneficio oggi proprio abbiamo smobilizzato il 90 per cento della nostra posizione a residua come incubatore finanziario quindi lì ci sono delle condizioni in questo momento di mercato che farebbero presagire quello di cui parlavamo prima i trading system proprietari che utilizziamo hanno acceso la luce verde sul trailing profit e quindi si è andati a chiudere quasi interamente quello che rimaneva del di solana infine su matic matic abbiamo un'esposizione statica di breve periodo non oltre i sei mesi considerando il potenziale che può avere nel corso dell'anno per le difficoltà che ancora ad oggi contraddistinguono ipidio rispondo subito a marcello che cosa ne pensi hai visto marcello che al simbolo dell'ane rossi vicenza non so neanche se si chiami l'ane rossi vicenza mi pare che la squadra di calcio non è stata comprata dal patron di diesel io andavo a vedere le partite quando c'era l'ane rossi vicenza vado a memoria perché io non seguo il calcio ma mi pare così a memoria che quella che era una volta la vecchia l'ane rossi vicenza si è stata acquistata da renzo rosso il patron di diesel e poi si è stata fusa con il bassano calcio una cosa del genere ed è venuto fuori il vicenza calcio che sono due squadre in realtà fusi non so se sto dicendo stupidaggini comunque andate a verificare mi pare che non esiste non esiste più insomma il lane rossi vicenza esistono due squadre che sono fuse assieme come vedi Ethereum e Bchain su Ethereum non abbiamo alcun tipo di esposizione l'abbiamo cavalcata lo scorso anno 2021 con quattro trade tattici proprio in ottica di terra come se fossimo dei trader se a nostro modo di vedere Ethereum ormai è una rischia di diventare una cometa nel senso anzi scusate una meteora nel senso che ha ritardi di sviluppo che continuano ad essere procrastinati per quanto concerne la famosa roadmap di Ethereum 2.0 l'implementazione del proof of stake per Ethereum stanno emergendo tante altre blockchain più competitive più valide e soprattutto che hanno adozione da parte dei developer che stanno letteralmente mettendo in difficoltà tutto l'ecosistema Ethereum infine Vchain è uno dei nostri asset preferiti all'interno della nostra asset allocation continua ad essere mantenuta in portafoglio e confidiamo durante il corso dell'anno quando assisteremo a successivi spinte propulsive se ci saranno le condizioni di smobilizzare parzialmente una parte della nostra dotazione Ciao Mirko, ha fatto una domanda che lui è un attimino in perdita su parecchi cripto cosa potrebbe fare mediare o aspettare? Adesso dipende dalle cripto di certo che se hai delle posizioni che stanno perdendo l'80% la domanda che mi faccio è ma si è andato a comprarle praticamente al momento della fine corsa quindi il timing di ingresso non è stato particolarmente felice se avete, lo ricordo sempre, un conto è investire un conto è tradare Paolo trada, io trado tanti di voi investono in tali casi, tanti di voi letteralmente scommettono sui cripto markets ora, se investite, lasciamo perdere l'attività di trading che presuppone ingressi e uscite fulmine e non fulmine comunque c'è tutta una gestione della posizione se invece investite sui cripto markets dovete avere un approccio metodico cosa vuol dire un approccio metodico nel caso in cui confidiate che il determinato cripto asset possa da qui a un anno, due anni dare soddisfazione andate a spalmare la quantità di capitale e di rischio che volete assegnare a quel tipo di asset in 2, 3, 4, 5 trade tattici da qui a un mese quindi sostanze, scusate, da qui ai prossimi mesi quindi si tratta di andare a costruire una sorta di pack piano di accumulo quindi con diversi ingressi scadenzati nel tempo proprio per ottimizzare il prezzo medio di ingresso se invece, come ho visto prima hai una posizione o più posizioni che stanno già perdendo l'80 vuol dire che sei entrato in tipica food o fomo quindi adesso ti vedi la posizione che è pesantemente negativa anche se smobilizzi un 80% un meno 80% per recuperarlo quanto tempo avresti bisogno quindi gli investimenti in cripto asset hanno delle logiche che sono completamente diverse da quelle delle azioni questo in ragione da una parte della volatilità e dall'altra dai rischi non di mercato ma di evoluzione e sviluppo del progetto perché come abbiamo menzionato tante altre volte il rischio che di portare avanti un cripto asset per tanti anni è di vederselo arrivare a zero per quale motivo? perché nel giro di qualche mese un anno può arrivare ad esempio una blockchain concorrente che sbaraglia tutti i piani di sviluppo quello che è accaduto ad esempio lo scorso anno con Solana che ha profondamente compromesso l'adozione di tanti altri cripto asset e la stessa cosa adesso sembrerebbe verificarsi anche con Solana cioè quindi non si può pensare compro un asset tipo un'azione a growth high tech la lascio lì fra cinque anni vado a vedere cosa vale poi la smobilizzo no perché la velocità e il tasso di sopravvivenza sui cripto market è tale che non ti puoi permettere il lusso di dire il buy and hold perché rischi appunto che quell'asset vada a zero in quanto diventa obsoleto rispetto al nuovo che avanza si sono cambiati un po' i parametri quello che c'era una volta che compravi la 7D adesso c'è una velocità una concorrenza che devi per forza di cose essere velocissimo devi essere attivo ad esempio Paolo ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa quando sei stato tu ospite da me che ne so compri Enel compri Enel Enel fa meno 10 può capitare poi fa anche meno 20 hai il flusso di dividendi lo lasci lì correre ma la probabilità che Enel da qui a 10 anni vada a zero è altamente improbabile può succedere però è altamente improbabile perché è un'azienda che ha piani industriali di sviluppo a 3 anni che sono come si dice indorsati da tantissime società di analisi finanziaria mentre se lo fate con un crypto project emergente sì magari adesso è in auge perché gli sviluppatori lo consigliano lo usano e così via ma se da qui ed è quello che accade ogni mese da qui a qualche settimana arriva viene lanciato un'altra blockchain un altro crypto project un'altra crypto app che arrende si trasforma in una killer application per la prima la prima lentamente verrà abbandonata perché ci sarà del meglio e considerando che il denaro il capitale la liquidità che esiste sui crypto markets è prettamente mercenaria cosa vuol dire mercenaria che si sposta con una velocità impressionante non avviene così all'interno dei del mondo del risparmio gestito perché ci sono delle da una parte le restrizioni poi ci sono anche degli oneri da sostenere per smobilizzare in anticipo e così via discorrendo mentre nel mondo delle blockchain si tratta letteralmente di un click di mouse e poi delle fee per la transazione che in tali casi sono infinitesimali quindi io magari avevo una posizione appunto come ho detto prima su Solana che era stata costruita l'anno scorso adesso per le condizioni di mercato che stanno cambiando che cosa si è andati a fare si è preso il beneficio si parcheggia si trattiene la liquidità il cash operativo e si attende una nuova opportunità di ingresso su un altro crypto asset o emergente o anche di quelli che già esistono quando ci saranno condizioni particolarmente proficue allora ferrarese si rispetto comunque per Rovigo sempre rispetto per Rovigo è un esempio ma non è assolutamente anche perché siamo tutti di queste zone quindi assolutamente ma ti dico ma io sono Veneto per quello ho detto provincia di Rovigo conta più del Salvador perché ormai anche per quelli del Salvador rispetto rispetto per tutti quanti facciamo una battuta ma non c'è nessuna vena polemica con nessuno allora anche le cose che diciamo sono solo a scopo didattico non a scopo di investimento mi raccomando prendetelo con le mole le cose che diciamo sia io che Eugenio che non insomma didattico nel mio caso non me la sento tanto di dirlo perché di fatto io gestisco un fondo di private equity in cryptoasset quindi non so cosa ci sia di didattico a mio modo di vedere poco sto condividendo quelle che sono le nostre convinzioni di mercato il nostro approccio operativo e anche alcune posizioni che abbiamo costruito e smobilizzato tante di queste vengono spesso ricevono anche spesso visibilità mediatica dalla stanza non con le pinze e con le molle ok prendete con le molle quello che dico io è seguito il genio ok ok no che dopo non venga qualcuno che mi aspetti fuori l'ufficio che non ho tanto fisico mi ero bastonata subito allora volevo che dite fatte una domanda io dopo andiamo a vedere anche questo discorso qua cosa ne pensi di coinbase e come crypto litecoin per quanto riguarda crow crow se la seguite che la crypto di allora crow è un un altro exchange l'exchange di crypto.com scusate l'exchange di crypto.com uno dei domini crypto più conosciuti noti al mondo e crow è il token attivo che serve per regolare le transazioni tutto l'ecosistema non utilizziamo e ne tanto meno lo faccio io a livello personale crypto.com proprio perché come ho detto prima abbiamo dei intermediari scusate strumenti di intermediazione per operatori qualificati quindi quelli coinbase crypto.com binance sono generalmente intermediari per il pubblico retail quindi vanno bene come se fosse una sorta di che ne so una grande banca online italiana conosciuta ecco grosso modo è quello visti i volumi trattati il modo di operare e soprattutto le necessità di avere un determinato livello di stabilità e robustezza robustezza dell'architettura di negoziazione preferiamo utilizzare altri intermediari nella consapevolezza e convinzione che quantità e qualità solitamente non vanno d'accordo ok che crypto consigli Eugenio e dopo mi ha detto un altro del central land ecco vedi Paolo ne parlavamo appunto beh qua fammi metti quelli di Roberto no beh ragazzi io vi voglio bene anche se siete di Rovigo però scusa non potete scrivere volevo chiedere di Ripple XRP ma Ripple non è una criptovaluta non ha niente a che vedere col mondo cripto anche se la trovate poi in graduatorio su CoinMarketCap o CoinGecko cioè è un token che è nato altamente centralizzato che ha tutta una serie di dinamiche a sé stanti e serve per l'ambiente interbancario con tutta una serie di poi problemi sottostanti che adesso non andiamo a sviscerare oltretutto c'è ancora un filing aperto con la SEC cioè sostanzialmente c'è una causa che la SEC ci sta portando avanti nei confronti dei fondatori di Ripple quindi noi e io personalmente non utilizziamo non abbiamo Ripple per quanto concerne Decentraland è uno di quei crypto project piuttosto noti ormai che è incentrato tutto sullo sviluppo del famoso tema del metaverso vale a dire una realtà virtuale parallele in cui si può comprare terra virtuale costruire un'impresa virtuale andare ad una festa virtuale sposarsi e divorziare virtualmente e così via discorrendo ed è uno dei titoli più conosciuti da quel punto di vista lì su Decentraland al pari di Axie Infinity che noi abbiamo cavalcato come durante il 2021 come trade tattico c'è il tema della della bontà del metaverso in questo momento vale a dire che un settore altamente inflazionato ne ha parlato la stampa finanziaria e non con ridondanza preoccupante e questo ha spinto tanti retail ad andare a prendersi tutti 3-4 titoli soliti che fanno parte di questo specifico settore in questo momento noi non abbiamo più posizioni su il metaverso siamo tuttavia investiti su gli NFT di un metaverso che a nostro modo di vedere avrà un sviluppo preponderante incredibile nei prossimi anni che è Star Atlas chi segue il settore sa di che cosa sto parlando e noi abbiamo acquistato tre navi spaziali dei controvalori di circa 30.000 dollari Paolo adesso mi guarderà e dire cosa avete comprato voi scusa si sono delle navi nel senso della parola navi spaziali di grandi dimensioni che serviranno appunto per vivere lavorare colonizzare un mondo parallelo che è un metaverso spaziale che è conosciuto in tutto il mondo in questo momento qui che è appunto il progetto di Star Atlas chi non sapesse che cos'è se lo vado a vedere perché potrebbe essere il prossimo fortnite noi abbiamo investito su questo tipo di convinzione infine le ultime due che vedevo prima cosa pensi di Coinbase ecco Ethereum Classic per favore cosa ne pensi di Ethereum e che cosa ne pensi di Ethereum Classic beh Ethereum l'ho già detto Ethereum Classic non serve a niente sono progetti inutili che stanno in piedi solo perché hanno delle comunità di invasati dietro che li spingono oltre ogni limite ma non serve più a niente Ethereum Classic e questo è fondamentale da capire andare a discriminare sui crypto project per evitare di trovarsi poi insabbiati un altro di quelli che a nostro modo di vedere non ha futuro l'avete me era indicato un un su un commento era Litecoin Litecoin 4-5 anni fa era considerato l'argento digitale se Bitcoin era l'oro digitale Litecoin l'argento digitale e che cosa avrebbe dovuto servire Litecoin a gestire le transazioni micropagamenti istantanei a commissioni tutto sommato modeste ridicole oggi Litecoin è una criptovaluta per i pagamenti che continua ad essere a esistere ad avere la sua sfera d'azione però nel frattempo sono emersi altri crypto project altre cryptocurrency che hanno un potenziale devastante rispetto a Litecoin perché sono veramente istantanee e il costo di transazione è impercettibile 0,00000 un dollaro quindi non tenere mandi 25 dollari e te ne arrivano 24,99 periodico in due secondi Litecoin non funziona così Litecoin si trattiene a seconda di quanto è congestionata la rete dai 2 ai 3 centesimi e poi non ti arriva ovviamente subito hai un ritardo un delay nel credito quindi stiamo parlando di un crypto asset che può andare bene per tradarlo perché ancora molto volatili ma a nostro modo di vedere non ha alcun tipo di futuro proprio perché nel frattempo esistono altri crypto project che servono specificamente a questo prima abbiamo menzionato Solana Solana che è questa blockchain emergente che ha avuto un tasso di adozione straordinario lo scorso anno ha lanciato da poco Solana Solana Pay che è un'applicazione per device mobili che consentirà che cosa di effettuare transazioni istantanee anche qualora fossero di importo veramente ridicolo che ne so 15 centesimi di dollari e così via a commissioni che non sono percepibili finanziariamente parlando come dicevamo prima commissione dello 0,0000001 un dollaro quindi come vi ho detto prima funziona in tal senso Claudia deve essere stanca perché le ha risposto a Claudia deve essere stanca non segue bene Claudia quello che dice Eugenio non è attenta Claudia è una bella ragazza è possibile che sia di origine maltese perché pace è tipico pace tipico cognome maltese di origine maltese eravamo eravamo a pace che giocavamo a tennis insieme con Eugenio che abbiamo fatto la sfida vi facevo correre te che bei ricordi mi avete sfidato che non ritorneranno Paolo guarda te la faccio anche a te una chiamata ma se io queste start perché ci stiamo lavorando organizziamo un torneo di padel per influencer del mondo finanziario della Borsa Italiana e degli investimenti tu parteciperesti si si parteciperesti o ti mettono in graduatoria se mettimi che vengo io vengo devo allenarmi perché ho mai giocato a padel a tennis si ma se hai l'impostazione tecnica del tennis con la racchetta da padel non avrai difficoltà ti ricordi ti ho bastonato te ma non sono mica tanto convinto che mi hai bastonato non sono mica tanto convinto ho perso devo dire che ho perso quella volta che il mio partner di gioco era viaggio milano viaggio contro di me avete perso se vuoi la sfida singolare facciamo che la sfida è singola per dare adito a quello che ho detto vedi che Claudia Pace è di Messina giusto? sì non è Merano Messina puoi stare sicura che le origini della sua famiglia avranno arriveranno da Malta proprio perché che ne so in epoche passate qualche antenato si è spostato da Malta e vedi da Malta si è spostato a l'ultima domanda esiste stibib bank non ho mai sentito stibib bank stibib sticazzi bank stibib bank no non penso personalmente non ho mai sentito parlare comunque guarda visto che siamo sul finale Paolo lasciami dire questo questo messaggio fate attenzione perché c'è un proliferare di truffe e di frodi e schemi piramidali e schemi ponti sui criptomarkets da far paura non era così quattro anni fa cioè ormai o con il tema delle shitcoin o con le memecoin o tutte queste fantomatiche banche e cripto che vengono lanciate e che purtroppo rappresentano esclusivamente schemi ponzi fatti proprio per coinvolgere ignari investitori con la favola che la banca sarà un super grande intermediario nei prossimi dei nel mondo cripto nei prossimi anni e così via quando se poi andate se poi andate a approfondire il tutto vi renderete conto che c'è inconsistenza o tante volte e questo è un suggerimento che vi do è andate quando c'è un progetto nuovo andate a vedere i profili linkedin dei fondatori o degli advisor perché tante uno potrebbe dire ah caspita ma c'è il profilo linkedin allora vado a vedere il profilo linkedin e quindi sono persone professionalmente meno qualificate ebbene non avete idea di quante volte i profili linkedin vengono utilizzati all'insaputa degli effettivi titolari quindi faccio un esempio io voglio lanciare che ne so un treppo finanziario cosa faccio devo essere credibile dico che sono advisor del treppo finanziario Paolo Serafini e Eugenio Benetazzo prendo i loro profili linkedin li metto lì la gente va a vedere e dice ah però guarda ci sono due personaggi di rilievo di spiccolo è una cosa seria cliccano e vengono rimandati sui nostri effettivi profili linkedin ma noi ne siamo assolutamente oscuri cioè si sta utilizzando indebitamente l'immagine professionale di qualcun altro a me te lo dico mi è capitato in passato svariate volte me ne sono accorto perché me l'hanno segnalato c'è gente che mi scriveva ah ma tu allora sponsorizzi questa società vuol dire che è seria cosa che faccio io e si guarda che c'è il tuo profilo così a quel punto là di intervenire facendo è capitato anche a noi Eugenio che ci hanno spannato delle pubblicità che c'ero dentro io e sembrava che io investissi su determinate cose e le abbiamo bannate però dopo le abbiamo anche visiate e abbiamo scritto e dopo capitano queste cose qui quindi il canale ufficiale andate sui canali ufficiali se avete bisogno dov'è che ti possano trovare Eugenio se hanno bisogno tutti di iscriverti oltre le informazioni iscriveteci al suo canale e tutto quanto o andate su Twitter Twitter lo uso praticamente quasi ogni giorno e poi YouTube che è diventato ormai la finestra con i quali vengono date anche indicazioni operative sulla nostra sulla nostra set allocation quando vengono fatte operazioni in una determinata portata generalmente diamo visibilità a questo tipo di trade o investiment costantemente tutti i giorni questi live su YouTube o? Certo più ogni settimana abbiamo dalle due alle tre live con personalità di prestigio qualche tempo fa sei partecipato anche tu e così via discorrendo anzi con l'occasione fammi spoilerare il mega evento che abbiamo organizzato per tutti i criptonauti italiani mettetevi in agenda mercoledì 9 marzo alle 21 e 30 su YouTube nel mio canale ci sarà The Crypto Night Show 2022 quattro operatori istituzionali si confronteranno sul mercato ovviamente di Bitcoin and Company e potranno interloquire direttamente con voi so che è un orario difficile perché la maggior parte di voi si sintonizza sulla 7 e guarda i vari talk show della 7 ma per una volta tanto fate uno strappo alla regola e sintonizzatevi perché sarà una live straordinaria non c'è niente del genere in questo momento strutturato pianificato programmato in Italia per quanto concerne ovviamente il sentiment e il mood degli operatori istituzionali per i crypto markets ok allora detto Mauro testi che visto l'andamento del titolo della perdita economica è stata enorme perché le aveva prese a 4.000 poi sono andate su gli hanno fregato i soldi quindi avrebbe fatto veramente un bel investimento massimo guarda Paolo a questo punto do un altro do un altro hint perché ho visto che c'era stato qualcuno che aveva scritto avevo investito due anni fa 500 euro in bitcoin su una banca cinese c'è già il fatto banca cinese brividi altro che la canzone di mac cercate di detenere quelle crypto con le quali volete costruire una parte strutturale sotto forma di pilastro del vostro portafoglio a casa in house in seno cioè dovete detenerle voi nel vostro wallet non nel wallet degli exchange perché nei wallet degli exchange non sono vostri le crypto sono momentaneamente nella vostra disponibilità se l'exchange viene bucato viene sottoposto a restrizioni qualsiasi altro tipo di problema voi perdete la dotazione per essere sicuri che effettivamente avete crypto dovete spostarle all'interno di wallet che controllate esclusivamente voi quindi o hard wallet o cold wallet o se proprio avete fiducia dei vostri dispositivi mobili anche un mobile wallet ma le chiavi di accesso di quel wallet ce le avete solo ed esclusivamente voi almeno in triplice copia ok va bene siamo arrivati alla fine alla conclusione della diretta abbiamo fatto poco più di 40 minuti 43 minuti Eugenio allora prima di ringraziarti volevo dire uno aveva scritto di Saipem sapete benissimo me lo penso su Saipem non ho mai investito soldi è un titolo mi tocca ripetere mi seguite le dirette ho detto che non ho mai investito quindi è un titolo a mio avviso spazzatura quindi non mi piace quel titolo lì non ho fatto mai investimenti a lungo periodo oltre 30 siamo a un euro quasi quindi capite benissimo che titolo possa essere Saipem allora Eugenio io ti ringrazio è stato un piacere averti come ospite qui ci faremo altre dirette quindi perché vedo che sono tanto contenti le dirette che abbiamo fatto se vuoi fare l'ultimo saluto a te dove voglio trovarti e ringrazio tutti buona serata a tutti grazie a tutti buon Bitcoin buon trading non partete il 9 marzo 21 e 30 mega show crypto con 4 operatori corporate dei crypto markets vi aspettiamo non partetevi la live e dopo faremo la sfida io e te a tennis e dopo la sfida a tennis ciao a tutti buona serata grazie Eugenio grazie ancora gentilissimo grazie arrivederci ciao a tutti